Come al solito il popolo decide Potente appara ragazzi Qua Vax e l'ho giocato Oggi sono da sole e sono qui a presentarvi Finalmente il primo episodio del pink pale Perché Scusate Ebbene ragazzi finalmente è tornato Dopo l'ultimo pink pale di FIFA 13 Che è stato quello di Cristiano Ronaldo Team of the Year dove praticamente L'avevo diciamo dato volentieri Al mio avversario Sono qui a presentarvi su FIFA 14 Questo mio primo pink pale con in palio Lewandowski Lewandowski if Stavo a dire T-Tots Ma non è ancora uscito Lewandowski if Che ho pagato esattamente 270.000 crediti Perché ho scelto Lewandowski Come avete visto all'inizio del video È stato quello più richiesto diciamo Questa qua ragazzi Avete anche già visto la squadra però Devo dire che è veramente una magicata Non è neanche tanto un'ibita Perché alla fine ho fatto la Serie A Costituita da giocatori del Milan e della Juve In più la Bundesliga Costituita da solo giocatori della Bortrum Della Bortrum Sì Della D Del Dortmund Ragazzi una cosa che volevo dire è che La vera perla di questa squadra Non è Lewandowski Non è Balotelli Vabbè Piscitana non c'è È Miki Traian ragazzi O Miki Tarian Boh non lo so Ragazzi per me Lui è fortissimo Però sono punti di vista Comunque allora Come vedete Aspettate un attimo che accendo anche la registrazione Su Ehm Balucca Fustania Aspettate un attimo Ok l'ho acceso a Tubecatcher Come ben vedete Io adesso Sono su Faccialibro E sto appunto per fare il Tweet Quello che sarebbe dovuto essere un tweet Perché lo sto facendo su Facebook Perché appunto Dato che è il mio primo pink pale su Xbox Ho detto Forse non ci sono ancora così tanti utenti Su Twitter che hanno l'Xbox Quindi facciamolo su Facebook Quindi pink pale Lewandowski If Xbox 360 Per partecipare Scrivete un numero da 1 a 30 Solo una volta Più la vostra gamertag Per partecipare Dovete essere già su FIFA Aspettate che qua metto uno spazietto E faccio da 1 a 40 Così viene una cosa un po' più tattica Io sceglierei Con random.org Quindi facciamo minimo 1 Massimo 40 Facciamo generate Il 16 Quindi chi scriverà 16 Sarà il mio avversario Noi adesso pubblichiamo E aspetta anche qualcuno Scriva 16 Ci sentiamo dopo Bolla Ragazzi abbiamo un 16 Si chiama su faccialibro Si credo di poterlo dire Antimo Pappadia Che ha scritto appunto 16 E invece come il suo GT Su Xbox Lui si chiama Antimo X X E tattico X Quindi andiamolo ad aggiungere Poi volevo un attimo Cogliere l'occasione Per parlarvi della facecam Ragazzi come avete visto Nel video di ieri O l'altro ieri Non so dipende appunto Da quando caricherò questo video Eh Ho cambiato postazione Ho fatto proprio una Abbastanza tattica E appunto per la facecam Per appunto iniziare il video Con la facecam Credo di farli a momenti Non credo neanche di Dover aspettare la nuova scrivania Comunque si vedrà Comunque E mandiamogli la richiesta Ad Antimux Speriamo Speriamo Che abbia una squadra Non molto forte Perché ragazzi Ragazzi Non vorrei perdere Il primo pink pal Ecco perché Chi ben comincia È già a metà dell'opera Adesso Sperando che non mi si blocchi L'Xbox Aspettiamo che lui Mi aggiunga Allora ragazzi Cosa è successo Che Antimux È offline Quindi dovrò cambiare sfidante Però dato che non ho Neanche il tempo Di rifare il post Cosa farò Rischiaccerò Generate su random.org Andrò a vedere appunto Se c'è qualcuno Che ha scritto il secondo numero In questo caso 37 Facciamo F3 Scriviamo 37 Ma non l'ha scritto Ancora nessuno Quindi cosa facciamo Rischiacciamo su random.org Facciamo generate È uscito il 36 Quindi qua Scriviamo 36 E là No Ha scritto 365 No 36 I will kill you Quindi andiamo ad aggiungere I will kill you Allora ragazzi Cosa è successo Non mi fai neanche aggiungere I will kill you Quindi è proprio partito Alla grande questo Pink Palo Però Però Antonio Pappadia Mi ha detto che è arrivato Quindi tecnicamente parlando Dovrei giocare contro di lui Aspettiamo che lui mi mandi la richiesta D'amicizia Eccola qua Accettiamola E dai giochiamo contro di lui Quindi In Palio Lewandowski If Alla grande E poi vi chiedo già Direttamente Facciamo così Se questo video raggiungerà i 700 Mi piace Nel prossimo episodio Appunto farò Metterò in Palio Un giocatore Che costa Sui 500.000 E E basta Quindi se no Appunto ne farò magari uno da 300 350 400 Quindi Se potete mettete un bel me gusta E se battiamo due volte le mani Mi aiuterete a vincere Quindi Dai Dai Allora Gioca con amici online Vediamo Ma l'ho aggiunto Si credo Di si Ah Anti Moogs Eccolo Tiago Motto Invitiamo a giocare Dai Levando Schengi Eccolo Sta arrivando Buono Dai E' arrivato subito Si è fatto perdonare Longobarda FC Quindi C'ha la maglia tattica Contro Levando Schengi Dai Allora Primo pink pale Di FIFA 14 Ci sta a farle webcam Cioè in facecam Oh my god C'è la bagata Ci sta a farla in facecam Però appunto Non avevo disposizione Le cose per registrare Perché col mio telefono Ahimè Cioè non posso poggiarlo Da qualche parte A meno che voi Avete consigli Comunque c'è una difesa Della madonna Madonna Siamo carichi Siamo carichi Comunque scrivetemi Anche magari un commentino Tattico Per Appunto farmi sapere Se volete o no La facecam Quindi si parte subito Col magico Mitico Mkhitaryan Che la da Pzzczek Pzzczek Subito Balotelli Leva Leva Fa Leva Leva Fa leva Su Blazikovski Blazikovski E scarta uno Va in mezzo La botta Che non arriva C'è A Destinazione Non sacca Avanza La mette in mezzo Pia pia nia Da solo Mannaggia La salsiccia La salsiccia Mi metto un attimo La pc mode Dai Va bene Fa niente Fa niente Benner Dai Benner Dai Benner Che l'hai visto No Mannaggia 1 a 0 Già al decimo Minghi Avete visto quanto sono forti su xbox E' tutto vero Madò Blazik Kuban Mkhitaryan Balot Balot Leva Eia Signor arbitro Dai Dai Blazik Dai Kuban O Yakub Non lo so Fuori gioco Aspettiamo Questa è buona Questa è buona Mkhitaryan Mkhitaryan Chiamatelo come volete Mi Madonna Sto scambio Vai Vai Ve l'ho detto Che è una bestia Ve l'ho detto Al sedicesimo Mkhitaryan Ho pure Mkhitaryan Anzi Sì Come si dice Firma l'1 a 1 Dai Intanto continuiamo di registrare Che c'ho sempre sto dubbio Io Buono Guardate che azione Che azione corale Che azione corale Dai 1 a 1 Uff Botta e risposta Oh Balotelli Isastraica Botta e Lewandowski Ancora Per il Miki Non ci arriva Oh c'ho Sì no Ancora Mkhitaryan E ci arriva ancora Per Leva 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 Blazi Blazi Mette Mkhitaryan Di testa Non ci arriva Blazi 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 El Vede il balo El Vede il balo El Vede il balo Bado legna Madonna i brividi I brividi Spera tutto calcolato Mkhitaryan Vede Costant Tuna King No Ci ha provato Perché Perché Arbitro Ma che stiamo scherzando Era da rosso Dai Io non le so battere le punizioni Però dettagli Infatti proverò Va bene Noi ci proviamo Balo No a me non le so proprio tirare Vabbè proviamoci Balo Beh che schifo La mette in mezzo Super Madonna palo Super madonna palo Che è sta cosa Che è sta co Madon Madonna mia ragazzi Lo spinta erogeno È un qualcosa di Ambiguagico Eh ma non puntare in velocità Bia biani Dai È la cosa più errata Che si potesse fare Madonna Leva 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 No Che gol Che gol Pensavo di aver sbagliato Lewandowski A 74 Porta Accel 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 Mg Vantaggio 2 a 1 Abbiamo messo la PC Mood ragazzi L'abbiamo messo Cioè Ancora finita Vai subito Mkhitaryan Con i suoi numeri Ci delizia Ci delizia Ci delizia Mamma Tutti Tutti Li aveva scartati Non mi sembra neanche vero Infatti ho detto Ma il trunk Qua la perdo Va bene Va bene No Che cosa ha fatto È volato È volato Mamma mia Il tunnel king Tunnel king Chiamato a rapporto Mamma mia Non la fa rivedere E allora cosa metti Le azioni salienti A fa A fa Cosa metti Le azioni salienti Se non le fan vedere Tutte Bello Mkhitaryan Opla No Invece sì E invece no Yes Vincono Yes Buono Mkhitaryan Al sedicesimo Lewandowski Al sedanta quattresimo Mentre invece Per Lungobarda FC C'è stato Iai Se non mi sbaglio Al decimo Boh Allora Valutazione dei giocatori Migliori Importa Gigi Topo Gigi Poi Mkhitaryan No Lewandowski 8 e 6 Mkhitaryan Magari scrivetemi un po' Come si dice Perché capisco Che può essere fastidioso Sentirmi pronunciare Una cosa Diversa Ha fatto più tiri lui Lol E Lol E poi No boh Ragazzi Questo primo episodio Del pink palo È finito Per me È finito Alla grande Comunque vi ricordo Che se volete partecipare Dovete andare Allora vabbè Sulla mia pagina facebook Magari continuerò a fare Le estrazioni per i primi episodi Ma poi andrò su twitter Principalmente Quindi ricordate di seguirmi anche su twitter Il link l'ho trovato in descrizione Vi ricordo di passare Vi ricordo di passare da fifa con il stash Che ha abbassato ulteriormente i suoi prezzi Ora è proprio imbattibile Il link l'ho trovato in descrizione Se vi serve il tutorial Mandatemi un messaggio E vi ricordo anche di passare dal secondo canale Che lì da ormai 20 giorni Sto portando avanti Una serie abbastanza tattica Che si chiama pack of the day Un episodio l'ho anche caricato qua E vi ricordo che se questo video arriva A 700 750 mi piace Nel prossimo pink palo Avrete un giocatore Che vale All'incirca su 500 mila crediti Che giocatore sarà Lo sceglieremo insieme Sulla pagina facebook Quindi ragazzi Detto questo Io spero che il video Sia stato di vostro gradimento E vi dico potente A pala Al centro Al prossimo video Bolla